quasi gaming stagione 4 il colpo di scena una partita che vale un anno intero l'anno scorso ci hanno turlupinato la vittoria finale all'ultimo momento e quindi io quest'anno non voglio correre rischi e ho cambiato tutto il quintetto rispetto a settimana dice ma settimana scorsa ti hai vinto non importa perché io mi devo fidare della gente che metto in campo capito perché questa è la partita importante siccome Howard se lo fa partire dalla panchina lui me lo mette centro e io lo voglio alla grande siccome Hapo Plaza se lo fa partire dalla panchina me lo mette alla grande e io lo voglio alla piccola siccome lo struzzo se lo fa partire dalla panchina me lo mette alla piccola e io lo voglio guardia siccome Kate Cunningham se lo fa partire dalla panchina me lo mette guardia e io lo voglio play l'ho messi tutti i titolari e chiaramente il lato bianco a completare non potrebbe essere altrimenti a un certo punto ci ho avuto la mezza idea la mezza tentazione di rimetteri barba perché magari ha avuto la partita della vita poi però ho detto no ma che t'ha preso una botta nei capo e quindi ho messo veli boni per cui Johnny è quasi magia Clay Thompson Chris Middleton Jackson Junior e Capelà questi sono più forti dei nostri titolari e non c'è numeri alla mano questi non gli legano neanche le scarpe però purtroppo i gioco non ha senso io questo l'ho capito sono quasi 40 settimane che ci gioco soltanto coloro i quali sono così folli da pensare di cambiare il mondo non me lo rovinà la intro così Kate Cunningham che avevo creato tutto l'hype ma che c'hanno la Ferrari là giù di dietro soltanto coloro i quali sono così folli da pensare di poter cambiare il mondo alla fine possono provare a cambiarlo di pe davvero questo era Albert Einstein in versione vernacolo toscano si gioca ai target center per evitare la gara 7 di quasi gaming settimana prossima è la partita più importante dell'anno sa un quintetto improbabile completamente illogico di tutto fuori di testa ma purtroppo il gioco questo è già in senso non è che dice uno ma magari compro una fronte di basket non lo fanno più quindi noi bisogna rinfidarsi ai cinesi e bisogna entrare ma chi è il dottor Chase quello di dietro bisogna entrare nella logica malsana capito che c'hanno laggiù siamo pronti a partire ragazzi io mi gioco tanto come sempre in questa partita perché ho preso delle posizioni forti ma stavolta ho fiducia ho in campo i miei uomini se bello è perso la palla a due ragazzi vi voglio harichi vi voglio agguerriti vi voglio aggressivi perché qui ci si gioca la stagione sei art o hate cunningham sei artissimo gli hai dato noia il lato bianco lato bianco titolare 36 sei accoppiato contro rudy gobert non lo dovresti vedere neanche gli dovresti andare via come bip e bip attenzione perché c'è subito il lato bianco contro hai ma anche cuoco e tu lato bianco le avvisaglie non sono delle migliori il lato bianco che si butta indietro come in bid però vedi come miete vedi come miete bravo ragazzi due itaward da quattro potrebbe essere la mossa importante fino in fondo addirittura bravo due itaward piani ragazzi sa un'altra occasione ultimi dieci secondi lo struzzo da san giovanni in persiceto da tre punti lo struzzo purtroppo non mi c'è entrato il granchio perché sennò tra lo struzzo e il granchio si faceva tutto lo zoo secondo me si era belli però ho dovuto mettere johnny è quasi magia per tutto quello che ha fatto nella stagione sei rimasto indietro lato fermare la mezza transizione accoppiarsi in difesa reggere su kairi erving recuperare su bradley bill lasciare libero wendell carter jr perché tanto si marca da solo ragazzi manca sette secondi si è difeso bene no carmelo no t'hai abboccato come sampey proviamo magari anche a innescare hapo plaza perché io mi ricordo una partita quest'anno ce l'ha fatta vincere lui dai punto di vista offensivo se ne avrebbe di bisogno il blocco di dwight howard ancora da san giovanni e però è tanta gente ci viene quanta popolazione fa san giovanni in persiceto in ameria qualcuno che viene a portare un blocco ai poro haid hanningham ecco howard dalla punta dal palleggio non mi pare una grossissima non è questo grosso playmare dwight howard capito grosso e grosso ma playmare no qualcuno su bradley non è vero non è vero lo sapevo lo sapevo t'avevo bello e visto t'avevo contato i passi noi si sta facendo sembrare un giocatore uno che giocava coi microfonini mentre c'era la pandemia mondiale trato chris middleton nel frattempo saprebbe di bisogno di un po di concretezza da chris middleton bravo dwight howard cancellato come la gomma stagetler si fa canestro veramente mai e io ve lo dico difende si prova difende ma canestro mai nemmeno per sbaglio a hill e lauri la riapertura per pasquale c'è dwight howard contro di lui gli regalano dei fisti che 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 in teoria questo dovrebbe essere il nostro quintetto migliore wall thompson middleton jackson jr e capella non è possibile che si chiapi l'imbarcata che si chiappa bravo chris middleton ma non è vero ma chi è paul mcpherson ma quando mai tyrese maxi si invola in palleggio con la bima né traffico come jr smith ragazzi ma vera me ma che cosa si sta guardando siamo sotto di sette mancano sei secondi non si è compicciato niente johnny wall da tre po' si giova male ma aiuta ma di male fortuna che c'è capella bravo ma è uscito di bravo come la signora ester ma non ma 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 perché perché che ho fatto io di male per meritarmi questo e wendell carter jr e siamo sotto di doppio della metà e praticamente fino a o addirittura il no look schiacciato a terra come milos steodosic lo vuoi rispedire al mittente per cortesia senza manchi fermo posta per favore ragazzi è la potenziale ultimazione di primo quarto siamo sotto ad una marea ma forse si è ingrippato un minimo di inerzia favorevole nelle ultimazioni ora questo deve sta fermo tutto e 24 secondi poi viglia ea traventa sui secondo ferro una sassata da tre punti senza aver costruito niente dai a vedere tra avanti ma ti conoscerò io vi dio la verità a un certo punto oggi ho anche pensato di non registrarlo questo video perché qui a siena c'è stato il terremoto io mi son pauri veramente mi sono preso le palpitazioni ho detto non è la giornata giusta poi però è chiaramente il calendario non è che ti può aspettare per cui abbiate un minimo di fietà clay thompson meno 3 guarda guarda che siamo più grossi siamo più arti si gioca meglio siamo più forti bisogna cercarle di rimontare questa partita kate cunningham per chris middleton guarda che non era un'ideaccia pigliarsi subito il tiro da lì anche perché quest'altro non la pole tene in mano ti rendi onto non gliela dare non gliela dare perché lui si butta indietro io lo conosco lui si butta indietro io per di capo meno male siamo a un possesso di distanza il problema è che la partita l'hanno fatta loro tutti i tempi noi abbiamo rincorso vada questo come fin lato bianco era finito sui pattini sullo skateboard dwight howard è planato su di lui il lato bianco a portargli un aiuto capo plaza peccate cunningham ultimi dieci secondi dell'azione ancora cunningham dal palleggio si porta via harry erving poi non sa giocare e gli sa centi depresso ragazzi capo plaza è accoppiato contro bradley bill che ne diciamo di mandarlo spalle a canestro non mi sembrerebbe niente noi si lavora per vie perimetrali la mezza ruota si fa a trovare clay thompson contro saddick bay sassata bada il lato bianco come lotta non ci arriva piano capo piano capo attaccare dritto per dritto con fiducia sei nove metri e mezzo contro bradley bill hai capito heaven durand c'è veramente bisogno che io commenti questa cosa wendell carter jr che si va ma no ma no allora l'arbitraggio è schierato probabilmente il commissioner del quasi gaming punta per gara 7 settimana prossima punta per avere il massimo ritorno dai punto di vista mediatico abito dell'accordo televisivo però noi bisogna cercare di venirne fuori in qualche modo siamo sotto di quattro non gliela dare non gliela dare già di anzi non si è buttato indietro che cosa vuoi che faccia a questo giro qui riapre per kate cunningham contro harry erving ultimi due secondi dei tirare kate cunningham nessuno a rimbarzo ragazzi c'è aria di imbarcata io ve lo dico io ormai le percepisco comincio a subodorare queste situazioni quando succedono guarda questo me non sa giocare ce l'avresti da tre punti importante ma lunga figlio mio ma guardalo ma guardalo ma guardalo ce l'avresti vantaggio fisico contro tai no no bravo ci sarebbe anche una minima discrepanza tra l'altro di questi due tre secondi e tutto sommato ci potrebbero anche quasi da una mano pasquale contro capelà deve forzare la virata attacca a vedere che qui arrivano due tiri liberi io per di capo forza a tutto campo capelà johnny perché non volete sporcare le statistiche piano 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 ma sarà fallo questo no di là gli hai fischiato l'aria e respirano guardalo guardalo però così fa schifo onestamente per quanto uno può provare a trovare anche delle soluzioni tattiche delle cose però in questo modo fa schifo ragazzi bisogna fare quadrato intorno a noi stessi bisogna giocare come se nessuno ci rimasse contro né dell'arbitri né dei cinesi e né dei giocatori il lato bianco che miete vendetta difensivamente forza sa un'occasione c'è due possessi di margine tra le squadre kate cunningham sale capo plaza arriva anche il lato bianco porta il blocco contro harry erving cunningham dai palleggio per white side della media però ma chi sei titone orford a qui ti volevo qui dovevi arrivare contro il lato bianco che tacce isda unato senza pietà forza ragazzi cerchiamo di sfruttare un minimo l'inerzia della giocata difensiva del lato bianco kate cunningham c'è gobert che lo chiude dai palleggio nell'angolo con chilometri di spazio lo struzzo il meno tre e purtroppo ci si sono accesi tutti i piedi per cui ora è una disgrazia la peste in confronto è una benedizione ora loro faranno sempre canestro e noi non si potrà giocare funziona così in questo gioco il lato bianco bravo non lo so non lo so dwight non lo so normalmente ti attaccheresti ai ferro e tireresti giù ogni bene a taiwan vanno di gancetto meno uno no 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 lo struzzo a farfalle due volte il lato bianco ancora lo struzzo a farfalle san morto zodi pistoia attenzione ragazzi la mezza transizione passi ma che cos'era è scivolato il paso doble la lambada è difeso troppo bene non ci si meritano questi due punti non ci si merita non ci si merita neanche wendel carter junior però anche perché non è un gioco il gabibbo potrebbe fare potrebbe fare quello che sta dentro il gabibbo quello è l'unico lavoro che potrebbe fare forza che fate ma poi fa cardo quasi gaming da da metà giugno un po non si dovrebbe mica poter registrare più a gile lauri ragazzi su a gile lauri per di capo per di capo al rimbarzo bravo lo struzzo ragazzi lo struzzo comunque le piccole cose è tremendo è ti dà una noia che roba da chiodi dicevo head cunningham vabbè inutile inutile io sto a chiacchierare che chiacchierò fai mi rovono si spenge la gente non sa gio a e tira eh vada che tira ho detto eh magari non ne stiacciano il traffico come vince carter però tira forza ora è un po forzato è una sassata è una mattonata materiale edilizio contro il tabellone possiamo provare a fargliela pagare questa cosa che da un punto di vista di morale sarebbe importante ultimo minuto di terzo quarto clay thompson esce lo struzzo che ci avrebbe la possibilità da tre punti lo struzzo il più improbabile dei protagonisti più due ragazzi è a gile lauri c'ha la giannetta per cortesia questo sarebbe il quintetto più forte di nuovo sulla carta è entrato con noi sui più uno stai a vedere i plus minus di quando esce poi dice io non conosco i cinese clay thompson contro tyrese maxey ultimi sei secondi dalla media nessuno al rimbarzo nessuno come polifemo sarebbe importante per immorale chiudere avanti anche se di un punto solo il terzo quarto pasquale in palleggio contro capelà è difficile al rimbarzo johnny si può finire qui si può evitare io 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 sto un quarto sei minuti ci separano dall'apoteosi o da una partita settimana prossima che io non so sinceramente se tra la tosse le coronarie sono in grado di poter reggere bradley bill dal palleggio a farfalle clay thompson due ai tower dal rimbarzo forza ogni possesso ora conta può essere decisivo e determinante johnny è quasi magia bassi di gambe ragazzi bassi è ora che si può decidere la partita a chile lauri ma che cos'era vada che tra l'arbitri e la sorte non mi sembra indirizzata bene a me questa partita eh ora due ai tower di io bravo bravo che già hai lavorato capo saresti arto sarei no ma sa di che bei è tutto l'anno che c'ha dubu chi nella fascetta non sono stati buoni di rasse taglieli è forzato è forzato è difficile sei un fenomeno vada come sta basso di gambe lo struzzo ragazzi mancano dieci secondi non ci si merita non ci si merita capo plaza ecco si sono accesi i piedi a quell'altri su un pallone e questo stava per picchiettarselo per terra capito no ah 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 e però loro fanno canestro quando si agendano piedi 3 44 sotto di uno una partita che non finisce mai un cardo che si stianta la tosse capo plaza dai palleggio ancora per lo struzzo 17 secondi alla fine dell'azione ci sarebbe il lato bianco che potrebbe portare un blocco contro bradley bill lo struzzo dai palleggio vuole attirare rudy gobert si difende spaglia l'appoggino come gasol si sta sciupando troppo ragazzi si sta sciupando troppo si sta sciupando troppo ci avresti un vantaggio ci avresti un vantaggio contro bradley bill il lato bianco il tocco morbido meno uno bravo che sei passato sopra ora però qualcuno deve chiudere un aiuto sul fondo non la vedo messa bene per niente ragazzi il lato bianco dalla punta ci sarebbe haid cunningham che riceve ora il consegnato ultimi 10 secondi dell'azione vantaggio fisico contro kairi erving chiuso al centro dell'area il lato bianco per capo plaza il tiro della stagione capo plaza so sudato intinto ma come si fa tira in fondo una partita di questo genere per la vittoria di campionato ma qualche d'uno su kairi erving ma qualche d'uno su kairi erving forza dwight 1 e 40 alla fine della partita parità assoluta è forzato è forzato è sbagliato guarda che lavori è finito il lato bianco contro kairi erving un minuto e trenta bradley bill dal palleggio contro kairi canningham e la virata tutti via tutti via ma sbaglia l'appoggio il lato bianco piano 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 ma dove vuoi andare dove vuoi andare c'hai raddoppiato ragazzi ma non gli si fistia niente ma si fa fa tutto questo lavoro qui ti pare il momento di giocare hero ball kairi canningham e non sei altro hai meno uno hai meno uno sarebbe importante per sparigliare 39 38 1 e 13 time out è la difesa e può valere una partita è la partita e può valere una stagione il lato bianco al rimbarso ultimo minuto ultimo minuto palla in mano capo plaza ragazzi con calma non sa bisogno di accelerare i tempi il lato via il lato bianco ancora per kairi canningham ultimi 10 secondi dell'azione si è compicciati giusto arriva brigis il blocco di howard canningham fino in fondo è contro wendell carter junior è l'uomo del destino difesa forte bassi di gambe 40 secondi bradley bill senza senso capo plaza rimbarso ora teniamola teniamola e giochiamo sui 24 capo plaza dai palleggio kate canningham il lato bianco ci sarebbe dwight howard contro sadik bay prova a partigli sulla linea di fondo perché 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 facciamo a capisci io un supplementare non ce la fa fisicamente proprio non lo reggo per cui vediamo in modo di uscirne vivi 38 41 bradley bill c'è una discrepanza di un paio di secondi abbondanti tra il cronometro dei 24 e quello della partita bill sul blocco attacca contro il lato bianco perso gobert possiamo mettere clay thompson clay thompson i tiri liberi ragazzi clay thompson no kate cunningham no brigis è stato l'uomo del destino fino ad ora ha due tiri liberi che pesano come un mascigno kate cunningham dalla lunetta la partita più importante dell'anno il primo lo segna il secondo sarebbe fondamentale perché ci garantirebbe quasi supplementari 42 40 13 secondi kate cunningham dal tiro libero dentro 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 43 a 40 non hanno più time out la buttano in tribuna la buttano in tribuna è stati gran secondo me è stati granchio che gli ha messo paura dalla panchina e ora vanno il fallo sistematico mancano 9 9 9 9 9 il finale di partita più incredibile di tutta la stagione ancora che giocatore allucinante che giocatore hai capito jayden ivy detroit pistons 44 40 ce n'avrà un altro il più importante l'ha già segnato segna anche il secondo 4 su 4 dalla lunetta con una freddezza che manco mattiaz smodis dei bei tempi ciao wendell carter junior ciao oh 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 perché mi dovete fa patire fino alla fine scusate eh si è chiappato tre punti in capo da wendell carter junior si riesce a rimettere a scappare no e allora cunningham risiamo da te uno è fondamentale volendo vabbè uno partiamo con uno sarebbe importante kate cunningham ha giocato una partita ma è un giocatore pazzesco dai è un giocatore incredibile è un giocatore allucinante ci avrà anche il secondo per regalarci la vittoria dopo un anno d'assenza i quasi gaming kate cunningham kate cunningham ha giocato un finale di partita da leggenda assoluta e allora siamo sul tetto del mondo due anni dopo alla faccia dello sciatore però sudato eh ma tanto mi sono preso delle responsabilità in questa partita che roba da chiodi se uno so i rimbarsi boh sono i numeri sono questi ho cardo sono stanco c'ho la tosse il miglior realizzatore della partita quota 11 punti con tutti i tiri liberi della vittoria è kate cunningham sette rimbarsi di lato bianco purtroppo 11 di gobert tre assist di harry erving due recuperi di chris middleton tre stoppate di gobert e tre di lato bianco che è l'nvp del quasi gaming ora si guarda e allora due anni dopo senza più voce o 40 gradi 435 a 345 se anche loro vincano la prossima ma so 40 punti rimangano indietro se vinto noi c'è più niente da fare io non lo so trarremo dei bilanci faremo delle conclusioni in attesa di prossimo anno ragazzi il prossimo anno si è scioffiato viene fuori un campionato e voi non ve lo immaginate io non lo so se siete pronti a quello che succede il prossimo anno ne parleremo abbiamo tutta l'estate di tempo e il fatto è che qui anche tante classifiche dal punto di vista individuale ormai sono decise però non tutte e soprattutto può succedere l'insuccedibile cioè metti che qualcuno ora piglia il bicchierone capito il bicchierone torna attivo e potrebbe vincere i punti potrebbe recuperare i recuperi le stoppate il mvp cioè veramente può succedere di tutto in realtà per cui ancora non si può di niente delle statistiche individuali questa è l'ultima estrazione dell'anno e è un bifosso di altro è l'ultima estrazione dell'anno loro hanno dieci estrazioni non se ne ha cinque è tardi ma non t'avrei tenuto uguale ora è una festa ormai è giavalone per chiudere in bellezza è buono è forte non so di che ve ne fate ma questo è forte come l'aceto peccato Danilo se venite a noi ti tenevo non poteva finire altrimenti non poteva essere questo vi meritate titolare 48 minuti eh l'ultima estrazione non poteva chiesere lui eh allora loro hanno pescato Dejante Murray è buono io devo delle scuse a Nicola Vucevic no a Tobias Harris perché tanto non l'avrei tenuto devo delle scuse a Nicola Vucevic perché se fosse ancora un campionato che con un vago senso l'avremmo tenuto in realtà non lo possiamo tenere e ora vi spiego perché loro tengano Dejante Murray non lo possiamo tenere perché dobbiamo tenere Giavalone e McGee eh al posto addirittura di Havela perché settimana prossima noi giocheremo con titolari Giavalone e McGee e Zehennaji Cam Thomas i Granchio e Taddeo questo sarà il nostro quintetto dalla panchina il lato bianco Dwight Howard e i Barba questa sarà la nostra squadra si starà a vedere capito cinese questo quintetto qui questa squadra qui ti meriti settimana prossima poi si farà un po' di conclusioni si direrà un po' anche quest'anno va bene non ve lo dico che ve lo dia a fa anche quest'anno in quasi gaming è stata la serie più vista di canale anche quest'anno qualora il canale dovesse arrivare a quota 45.000 iscritti i file saranno resi disponibili ai download ormai penso sinceramente se va bene prossimo anno se va bene però lo saranno e basta basta fammi una doccia non ne posso più ah importante settimana prossima aggiorniamo anche questa è la classifica Hall of Fame aggiorniamo anche questa occhio grazie a tutti